Diciottesima edizione di Cordata per l'Africa, l'iniziativa che ogni anno per la perdonanza la Mission Amici di San Basilio mette in campo a sostegno dell'opera delle monache benedettine e celestine per raccogliere fondi. Dal 22 al 29 saranno tanti gli eventi, si parte proprio il 22 al monastero, con una mossa itinerante sul celestino, a seguire una tavola rotonda sul parco storico-culturale che nascerà sul Mona, la sera musica con il maestro Francesco Mammola. Il 23 è il tour esperenziale alla scoperta dei tesori del monastero di San Basilio, con il pomeriggio una tavola rotonda su arte e spiritualità. Alle 21 sempre musica, il 24 si aprirà con il tour esperenziale nel monastero, seguito dall'inaugurazione di un'opera d'arte, con successivo convegno sul perdono nei locali attivi dell'università, al quale parteciperà la senatrice Maria Stella Gelmini, gocce di perdono uniscono i popoli e il concerto serale. Nella giornata di domenica Santa Messa, il solito caffè di solidarietà con la consegna nel pomeriggio della Croce di Celestino e un convegno sul giubileo con concerto a chiudere. Nella giornata di lunedì, tour e convegno sull'inclusione dedicata all'autismo, organizzato da Autismo Abruzzo Olus e vari spettacoli serali. Il 27 si aprirà con il tour a seguire un dibattito sulla sanità e spettacolo finale. Il giorno 29 di chiusura si parlerà di comunicazione per la perdonanza e il giubileo, con autorevoli operatori della comunicazione, compreso il nostro direttore Carmine Perantuono. Evidentemente questa utopia di non spendere soldi ma di raccogliere fondi per le nostre suore funziona perché abbiamo aggregato nella cordata altre realtà. C'è per esempio un bellissimo evento sull'inclusione, che mi sembra un tema molto celestiniano in questo momento con l'autismo onlus. E quindi ci sono altre realtà che si sono aggregate, che si sono unite per una idea, per un'utopia, quella di festeggiare questa perdonanza all'interno della casa di Celestino V all'Aquila, che è il monastero di clausura delle suore celestine. Ecco, le giornate si apriranno proprio con dei tour esperenziali per far scoprire a tanta gente, anche aquilani, che non conoscono poi il monastero. Sì, ci sono veramente dei grandi tesori qui, a cominciare dal saio di Celestino, ma anche dal vecchio allestimento delle spoglie, delle statue meravigliose. E tutta una serie di tesori che possono essere utili a raccontare la storia di Celestino V, a raccontare questa epopea dell'Ordine dei Celestini. Una settimana molto, molto intensa, con tutta una serie di appuntamenti. Cominceremo il 22 con un evento a trazione peligna, a trazione sulmonese, non a caso significativamente qui a San Basilio, all'interno della perdonanza. Sulmona lamenta di essere un po' tenuta fuori dal discorso celestiniano. E noi abbiamo aperto ovviamente le braccia a questo ragionamento con Sulmona. Grazie.